In una giornata di pioggia i Morales di Stornara colorano ancora di più strade e piazze di un paese che ha cambiato volto grazie ad un gruppo di abitanti. È loro l'idea, quattro anni fa, di regalare una seconda vita ai muri grigi consumati dal tempo e trasformarli in opere d'arte. Abbiamo deciso di colorare questo paese perché qui non abbiamo niente di artistico, quindi abbiamo pensato di abbellirlo, di attirare un po' di persone, di gente per far visitare questo paesino piccolo sconosciuto da tutti. Stornara diventa così luogo di sperimentazione e nasce un festival internazionale che dà spazio a volti, espressioni, storie. Ottanta Morales disegnati da artisti provenienti da tutto il mondo che parlano di natura, bellezza, politica, resilienza. Abbiamo cercato di coccolare gli artisti per farli sentire a casa. Per loro il festival Stramorales non è un festival come gli altri, ma è una rimpatriata fra artisti e fra vecchi amici che saremmo noi, che si trovano ogni anno. Così in pochi anni da anonimo paese ignorato dal turismo e a rischio spopolamento, stornare è diventata una vera attrazione. Vogliamo premiare il coraggio di chi esiste, soprattutto in questi bordi del mezzogiorno, che sembrano lontani dalla grande storia o dalle grandi dinamiche. Una comunità che vuole tenere duro e vuole riproporsi per il futuro. Grazie a tutti.